Consideriamo una particella di massa m e la sua energia in un punto dello spazio individuato dalle coordinate cartesiane x, y, z sia u di x, y, z, cioè u maiuscola aperta tonda x virgola y virgola z, chiusa tonda. A questo punto avremo l'equazione di Schrödinger meno h barrato al quadrato fratto 2m nabla al quadrato psi maiuscola più u psi maiuscola uguale i, unità immaginaria, h barrato derivata parziale rispetto a t della lettera greca maiuscola psi. Questa lettera greca maiuscola psi non è altro che la funzione d'onda e dipende da x, y, z, t. Ora poniamo che psi maiuscola di x, y, z, t sia uguale a psi minuscola di x, y, z moltiplicata per l'esponenziale di meno i e t fratto h tagliato. Quindi la psi maiuscola dipende anche dal tempo t, mentre la psi minuscola dipende solo da x, y, z e non dipende dal tempo. A questo punto andiamo a sostituire al posto della psi maiuscola questo prodotto tra la psi minuscola e l'esponenziale di meno i e t fratto h tagliato. Notiamo subito che l'esponenziale di meno i e t fratto h tagliato non dipende dallo spazio, ossia non dipende dalle coordinate x, y, z. Perciò tale esponenziale è una costante rispetto alle coordinate x, y, z e così possiamo portarlo alla sinistra del nabla al quadrato. In maniera del tutto analoga la psi minuscola, che d'ora in poi chiameremo semplicemente psi per semplicità, dipende solo da x, y e z e non dipende dal tempo t. Perciò la possiamo portare alla sinistra della derivata parziale rispetto al tempo che si trova alla destra dell'uguale. A questo punto andiamo ad effettuare qualche semplice calcolo su ciò che si trova alla destra dell'uguale. Al momento alla destra dell'uguale abbiamo i, unità immaginaria, h tagliato, costante di Planck ridotta, psi, derivata parziale rispetto al tempo dell'esponenziale di meno i e t fratto h tagliato. Sappiamo che la derivata dell'esponenziale non è altro che l'esponenziale stessa moltiplicata per la derivata del suo argomento, ossia nel nostro caso dovremo scrivere, oltre a riscrivere i, h tagliato, psi, esponenziale di meno i e t fratto h tagliato, derivata parziale rispetto al tempo dell'argomento, ossia di meno i e t fratto h tagliato. A questo punto, guardando le cose più nell'insieme, notiamo che possiamo semplificare grandemente la nostra equazione semplicemente dividendo tutto per l'esponenziale di meno i e t fratto h tagliato. E così possiamo togliere questo da dove compariva. Compariva tre volte, no? Due alla sinistra dell'uguale, una volta alla destra dell'uguale. E così ci rimane l'equazione. Meno h tagliato al quadrato fratto 2m, nabla al quadrato psi, più u psi, uguale i h tagliato psi, derivata parziale rispetto al tempo di meno i e t fratto h tagliato. A questo punto effettuiamo questa derivata parziale. I e h tagliato sono costanti rispetto al tempo e perciò le potremmo portare semplicemente fuori e vabbè, è abbastanza ovvio che da questa derivata parziale ci rimanga meno i e fratto h tagliato. Perciò, a questo punto, andiamo a semplificare h tagliato che compare prima, diciamo, al numeratore e poi al denominatore e moltiplichiamo i per i ottenendo i al quadrato. E naturalmente consideriamo che i al quadrato è pari a meno 1. L'unità immaginaria al quadrato è pari a meno 1. Dunque, alla fine, alla destra dell'uguale ci rimane E, maiuscola, che rappresenta l'energia totale della particella, moltiplicata per questa psi minuscola, che non dipende dal tempo, lo ricordiamo. A questo punto abbiamo ottenuto l'equazione di Schrodinger indipendente dal tempo in tre dimensioni, ossia meno h tagliato al quadrato fratto 2m, nable al quadrato psi, più u psi, uguale E psi, dove la E maiuscola rappresenta l'energia totale della particella, la U maiuscola rappresenta l'energia potenziale della particella, m è naturalmente la massa della particella, ed h tagliato è la costante di Planck ridotta. Psi è dipendente solo da x, y, z, come pure l'energia potenziale U maiuscola. Abbiamo sopposto nelle ipotesi che U maiuscola non dipenda dal tempo. Inoltre possiamo passare semplicemente in una dimensione, così ricavando l'equazione di Schrodinger indipendente dal tempo unidimensionale, meno h barrato al quadrato fratto 2m, derivata seconda rispetto ad x di psi di x, più U di x psi di x uguale E psi di x. A questo punto andiamo a vedere una forma equivalente in cui possiamo riscrivere l'equazione appena enunciata. spostiamo da prima e psi di x alla sinistra dell'uguale, invertendolo di segno si intenda. Poi dividiamo tutto per h tagliato al quadrato fratto 2m, poi effettuando dei semplici raccoglimenti si giunge alla forma definitiva, ossia derivata seconda rispetto ad x di psi di x, più 2m fratto h tagliato al quadrato, aperta quadra E meno U di x chiuse quadra, psi di x uguale a 0. Bene, dunque abbiamo semplicemente visto una seconda forma in cui si può scrivere l'equazione di Schrodinger indipendente dal tempo in una dimensione. Ora andiamo a vederne una terza. Introduciamo a tal fine K al quadrato uguale a 2m E fratto h tagliato al quadrato e introduciamo u piccolo, ossia u minuscolo, di x uguale a 2m U maiuscolo di x fratto h tagliato al quadrato. A questo punto possiamo scrivere l'equazione come derivata seconda rispetto ad x di psi di x, più aperta tonda, k al quadrato meno U di x chiusa tonda, psi di x uguale a 0. A questo punto enunciamo una serie di condizioni che deve rispettare la funzione d'onda psi minuscola di x. Innanzitutto vi sono le seguenti condizioni di regolarità. Psi e la sua derivata prima devono essere continue. Questa condizione è soddisfatta automaticamente nei punti in cui l'energia potenziale U maiuscola di x sia continua, in quanto dall'equazione di Schrödinger, indipendente dal tempo unidimensionale, si vede subito che ove l'energia potenziale U di x è continua, è continua anche la derivata seconda di psi. Comunque va verificata la continuità nei punti in cui l'energia potenziale non è continua. Consideriamo che la nostra particella di massa m possa accedere solo a una regione con x strettamente compreso tra xi meno, ossia xi con meno apedice, e xi più, ossia xi con più apedice. xi meno è maggiore o uguale di meno infinito e xi più è minore o uguale di più infinito. Perciò in sostanza xi meno e xi più possono essere finiti o infiniti. Scegliamo xi meno strettamente minore di xi più, se non si era capito. Nel caso xi meno sia finito, allora richiediamo che si annulli il limite di psi di x per x tendente a xi meno da destra. Analogamente, nel caso xi più sia finito, richiediamo che si annulli il limite di psi di x per x tendente a xi più da sinistra. Queste due condizioni appena enunciate sono dette condizioni al contorno e queste sono legate alla delimitazione da una parte o dall'altra della regione accessibile. Ora andiamo invece a vedere cosa succede nel caso l'infinito sia raggiungibile, o meglio, nel caso xi meno sia uguale a meno infinito e o xi più sia uguale a più infinito. In questo caso bisognerà richiedere la limitatezza della funzione d'onda psi di x. Ossia in sostanza dobbiamo richiedere che esista una costante, che naturalmente sarà positiva, tale per cui il modulo della funzione d'onda psi di x sia sempre strettamente minore di essa. Naturalmente stiamo parlando di una costante finita. Trovate un valore di energia e una funzione psi di x che soddisfano l'equazione di Schrödinger unidimensionale indipendente dal tempo e le condizioni appena enunciate, tale valore di energia sarà detto un autovalore dell'energia e tale funzione psi di x sarà detta una autofunzione dell'energia appartenente a tale autovalore dell'energia. Ora consideriamo il caso in cui la particella non sia confinata, o meglio il caso in cui la particella possa accedere a qualsiasi punto x compreso tra meno infinito e più infinito, ossia il caso in cui xi meno è uguale a meno infinito e xi più è uguale a più infinito. Inoltre introduciamo la seguente notazione. Denotiamo con U maiuscola con asterisco appedice il minimo dell'energia potenziale e denotiamo con U con minore appedice il più piccolo tra i limiti dell'energia potenziale rispettivamente per x tendente a meno infinito ed x tendente a più infinito. Invece con U maiuscola con appedice il segno di maggiore indicheremo il valore più grande tra questi due limiti. Consideriamo dunque il caso in cui la particella possa accedere a qualsiasi punto x strettamente compreso tra meno infinito e più infinito. In tal caso farà il seguente teorema di struttura spettrale. Si parla della struttura dello spettro energetico della particella. L'intero spettro energetico è contenuto nel range di energia strettamente maggiore di U asterisco U con asterisco appedice come abbiamo appena detto. Inoltre lo spettro energetico è suddiviso in tre parti possibili. Una parte si trova nel range di energia strettamente compreso tra U asterisco e U minore. In tale parte lo spettro energetico è discreto non decenere. Un'altra parte è nel range compreso tra U minore e U maggiore compresi. E tale parte è continua non decenere. Infine, un'altra parte è quella nel range strettamente maggiore di U maggiore. e tale parte è continua doppiamente decenere. La suddivisione dello spettro energetico in tali tre parti corrisponde ai seguenti tre casi. Il primo caso, quello in cui lo spettro è discreto non decenere, la particella è delimitata sia a sinistra che a destra. Nel secondo caso, invece, in cui viene fornita la particella un'energia tra U minore e U maggiore, la particella è delimitata da una parte ma non dall'altra. In sostanza, dunque, potrà andare all'infinito solo da una parte. Quindi, ad esempio, potrà raggiungere più infinito e non meno infinito oppure, viceversa, potrà raggiungere meno infinito ma non più infinito. Il terzo caso, invece, è quello in cui si fornisce alla particella, o meglio, la particella ha un'energia, tale per cui, alla fine, tale particella ha un'energia maggiore di U maggiore e perciò è libera di andare da entrambe alle parti all'infinito. Inoltre, le autofunzioni appartenenti ad autovalori discreti dell'energia sono normalizzabili, mentre le autofunzioni appartenenti ad autovalori continui di energia non sono normalizzabili. Molto semplicemente introdurremo una barriera potenziale oppure un'energia potenziale di confinamento, si può chiamare in entrambi i modi, e la denotiamo con U maiuscolo con C apedice. C proprio sta per confinamento. Tale energia potenziale U con C apedice ha come unico fine l'esprimere l'eventuale confinamento della particella. Quindi, in sostanza, varrà zero nella regione in cui la particella è confinata e varrà più infinito al di fuori di tale regione. In tal modo, in sostanza, noi potremmo dare come regione accessibile da parte della particella tutta la regione tra meno infinito e più infinito e considerare l'energia potenziale come la seguente energia potenziale efficace, che non è altro che la somma tra l'energia potenziale vera e propria e tale energia potenziale di confinamento, tale barriera potenziale, indicata con U maiuscola con C apedice. Ad esempio, possiamo considerare quello che succederebbe alla particella che può accedere a un qualsiasi punto X strettamente compreso tra meno infinito e più infinito, quindi non delimitata né a sinistra né a destra. È il caso in cui abbiamo appena trattato la struttura dello spettro energetico. Bene, in tal caso si può considerare un'energia potenziale efficace data dalla somma tra l'energia potenziale e l'energia potenziale di confinamento, solo che quest'ultima, l'energia potenziale di confinamento, non essendo la particella delimitata né a sinistra né a destra, è naturalmente nulla. Abbiamo l'energia potenziale di confinamento nulla e l'energia potenziale efficace coincidente con l'energia potenziale. Un po' più rigorosamente potremmo dire che l'energia potenziale di confinamento è nulla in ogni punto e che l'energia potenziale efficace coincide con l'energia potenziale in ogni punto. Dunque abbiamo visto che nel caso in cui la particella sia confinata tra meno infinito e più infinito in realtà non ci cambia nulla. Invece, l'introduzione dell'energia potenziale di confinamento è utile negli altri casi, ossia nel caso in cui la particella sia delimitata a sinistra e non a destra, nel caso in cui la particella sia delimitata a destra e non a sinistra e nel caso in cui la particella sia delimitata sia a destra che a sinistra. Abbiamo visto prima la struttura dello spettro energetico di una particella non delimitata né a destra né a sinistra. Ora, grazie all'energia potenziale efficace, descriviamo invece la struttura dello spettro energetico di una particella che ha una qualche limitazione, o a destra o a sinistra o da entrambe le parti. La struttura dello spettro energetico sarà analoga a quella vista precedentemente. Tuttavia, semplicemente al posto dell'energia potenziale, qui si parlerà sempre di energia potenziale efficace. Adottiamo inoltre una notazione del tutto analoga. U con la pedice F innanzitutto denota l'energia potenziale efficace. U con la pedice F asterisco denota il minimo dell'energia potenziale efficace. U con la pedice F minore indica il minore tra i due limiti per x che tende a meno infinito e x che tende a più infinito dell'energia potenziale efficace. U con la pedice F maggiore denota il maggiore tra tali due limiti. Dunque, le tre parti in cui è suddivisibile lo spettro sono le seguenti. Vi è una parte discreta non degenere strettamente compresa tra UF asterisco e UF minore. Vi è una parte continua non degenere compresa tra UF minore e UF maggiore compresi. Ed infine, vi è una parte continua doppiamente degenere nel range di energia strettamente maggiore di UF maggiore. Concludiamo enunciando semplicemente qualche proprietà delle autofunzioni dell'energia del problema di Schrödinger unidimensionale. Ogni autofunzione appartenente ad un autovalore dell'energia non degenere è reale a meno di una costante. Ora scriviamo lo spettro di energia discreto come una successione W0, W1, W2. Ove ogni autovalore di energia sia minore del successivo, ossia valga WN strettamente minore di WN più 1. Ogni autofunzione PSI-N appartenente all'autovalore WN ha esattamente N nodi, ossia N punti accessibili alla particella in cui PSI-N si annulla. E' importante ricordare che PSI-N e PSI-N non sono considerati nodi. Ciò è noto come teorema dei nodi. E in particolare vale per la autofunzione PSI0, che così avrà zero nodi. Ora supponiamo che la regione accessibile alla particella sia simmetrica rispetto all'origine, ossia X uguale a 0, ossia supponiamo che PSI-N sia uguale a meno PSI+. Una funzione d'onda PSI-N è detta avere parità definita più o parità definita meno se e solo se rispettivamente PSI-N è uguale a PSI-N oppure PSI-N è uguale a meno PSI-N. In sostanza è un altro modo per dire che tale funzione è pari o dispari. Infatti ci ricordiamo che una funzione F di X è detta pari se e solo se F di meno X è uguale ad F di X. E ci ricordiamo che una funzione è detta dispari se e solo se F di meno X è uguale a meno F di X. Ora supponiamo che la regione accessibile alla particella sia simmetrica rispetto all'origine, ossia che XI- sia uguale a meno XI+. Inoltre supponiamo che il potenziale sia U di meno X uguale a U di X. Allora una autofunzione appartenente ad un autovalore dell'energia non degenere ha parità definita, quindi o è pari o è dispari. Inoltre per un autovalore di energia doppiamente degenere esistono due autofunzioni linearmente indipendenti appartenenti ad esso che hanno parità definita. Tali due autofunzioni inoltre possono essere scelte in modo che siano reali a meno di una costante. Supponiamo ora in aggiunta che vi sia uno spettro energetico discreto e proprio come abbiamo fatto prima ordiniamo gli autovalori dell'energia in modo da avere una sequenza W0, W1, W2 eccetera eccetera tale per cui ogni autovalore dell'energia in tale sequenza sia strettamente minore del successivo. Allora un'autofunzione PSI-N appartenente all'autovalore dell'energia WN ha parità definita più o meno nei rispettivi casi in cui N sia pari o dispari. In particolare l'autofunzione PSI-0 appartenente all'autovalore dell'energia W0 è pari, ossia di parità definita più. A questo punto concludiamo tutto il discorso dicendo che un'autofunzione dell'energia di parità più non può annullarsi in x uguale a 0 e invece un'autofunzione dell'energia di parità meno si annulla necessariamente in x uguale a 0. Questo ultimo fatto lo possiamo dimostrare molto facilmente. Infatti prendendo un'autofunzione dell'energia PSI-X di parità meno ossia PSI-X è uguale a meno PSI-X possiamo vedere immediatamente, semplicemente spostando che PSI-X più PSI-X deve essere 0 e ciò deve essere 0 per ogni x accessibile Perciò possiamo vedere in particolare sostituendo al posto di x 0 che PSI-0 più PSI-X è uguale a 0 Perciò dal momento che PSI-X e PSI-X sono la stessa cosa perché ovviamente 0 e meno 0 sono lo stesso numero otteniamo che 2 volte PSI-X sarà 0 e quindi naturalmente PSI-X è uguale a 0 a 0 Perciò dal momento che PSI-X è uguale a 0 Perciò dal momento che PSI-X è uguale a 0